Hola amico della sezione dell'Umba del Magazine, soy Giorgio e come toda la semana sta rappresentando per los mejores lugares di Cartagena e siamo qui hoy en Tu Candela, andiamo a vedere che succede è lo miglior che c'è Cartagena, è lo miglior io voglio, che le levantano tutti e si dico la verità sono qui in ragazza da 50 giorni e penso che 40 giorni sono qui sempre in televisiva sta dicendo che sono 40 giorni che stanno in ragazza e tutti i giorni qui se va a provare, no? cavoli! no 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 Grazie a tutti Grazie a tutti